Il segno che voglio lasciare non mi sono mai posta il problema, lo voglio lasciare, per me il segno che lascio è dentro di me, non ho questa presunzione anche perché frequento pochissimo gli ambienti, le gallerie e quindi non ci sarebbe neanche questa opportunità. E' importante quello che c'è dentro di me, il segno che mi lascia dentro come emozione, come sorpresa, come anche scoperta di me perché quando dipingi scopri sempre qualcosa di me, purtroppo non è sempre così, ma quando c'è questa scoperta, questo segno che riconosco come qualcosa di mio, che magari mi è sfuggito o che interpreto come qualcosa di nascosto che è uscito anche contro la mia volontà o inaspettatamente, questo è il segno che cerco io. Quello che lascio agli altri, lo lascio agli altri. Per me è importante la mia ricerca, il mio segno è forse anche un po' una visione molto intima, ma è un aspetto che ho sempre preservato, quello di stare magari un po' in disparte e privilegiare la mia ricerca personale che mi aiuta molto, è qualcosa di mio che ho sempre cercato e che nessuno mi toglie. Fra tutte le cose che possono togliermi, c'è la salute o che ne so, le disgrazie, questo piccolo rifugio, la pittura, è qualcosa di mio, il mio segno è questo, la mia condizione di anche un po' isolamento è preservare questo aspetto, questo segno che spero arrivi anche agli altri, ma soprattutto a me.